Allora, buonasera, benvenuti in questo bellissimo centro, Centro Commerciale Jumbo, che ringrazio personalmente, anche insieme ai miei collaboratori, per averci ospitato in questa splendida struttura e in particolare il direttore di questo centro, Edmondo Pedone. Allora, sono Michalangelo Beltrami. Di altri fianchi ambronzati, attaccati a me, onde più profonde. Teresa della medaglia, abbiamo una. E vorrei sionare, rinnegare il cielo, sbattere la testa di quinte volte contro il muro. Allora, Yolanda Capasso. Allora, mi chiamo Luca D'Andrea, sono di Fratte Maggiore, ho 21 anni, studio Scienze Biologiche all'Università Federico II di Napoli. Per strapparmi gli occhi via da Dio, lei che ha perso la passione dei figli erio in me. Scusiamo come canta. Allora, tu canti, raccontami. Raccontami di sì, direnga. Ok, possiamo partire con la base. Allora, mi chiamo Carmela Caviglia per l'anagrafe, mi chiamo così, però mi chiamano tutti Bornella da sempre. Bornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà delle cose. Allora, vengo da Napoli, ho 22 anni, ho studiato canto precedentemente e mi esibisco in locali. Che cosa c'è di più celeste, un cielo che ha vinto mille terrestre, che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Francesco Amoruso. Bene. Niente, siamo un duo e questa volta presentiamo una canzone di Bungaro Guardastille. Tra la scienza e la guerra, tra la scienza e la guerra, guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle, mi perderò con te. Allora, mi chiamo Alessandro Livari, ho 19 anni e vengo da Napoli, frequento liceo linguistico. Mi chiamo Luca, ho 20 anni e studio giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Mille giorni di felicità, mille notti di serenità, farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai. Mimma, vengo da Casandrino. Sì? Cosa fai di bello oltre cantare? Studio scienze infermieristiche. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il rotto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. La notte so che pensi a me, amore, nel buio cerchi sempre le mie mani, no. Sì, frequento il quinto anno del liceo classico e canto da quando ero piccola. Due vere collisioni, un battito di ali, un ondo, una stagione, imparare a camminare, un'ampora di sale, un cielo per volare. Nel polizia che ma lo fa sognare un po', chiudi gli occhi e già si avvertirà, si sentirà quell'aria di Sud America, un oasi nel deserto che ti dissederà. E ti rinvesca insieme a quel suo ritmo che ti accende i sensi in modo inevitabile. Cazzo, ursola? Ussola. Ah, ursola, no, 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 da Cevra, da Cevra. Da Cevra. Da Cevra. Amore. Porta e parole, non fa sola. Amore, mi ti penso a pure, ci penso a farti avere un futuro. Apri gli occhi e guarda la natura, la sostenibilità e l'unica cura per dare al tuo figlio Il nuovo futuro Mi chiamo Annalisa Salvatino, 24 anni e vengo da Premonte Solo per portarti a letto e non me ne frega niente Se dovrò aspettare ancora Per parlarti finalmente Dirti solo una parola Siamo Luca e Tony In arte Luca Blindo e Tony Fon Siamo due rapper Ma ciò che cade in questa via Festival Una voce non fa niente